Guardate già l'immagine, serve in pratica per mantenere la mascella chiusa, per determinare una respirazione non erronea, per non respirare di bocca ma respirare col naso e quindi attenuare meccanicamente, automaticamente il russare. Vedete l'immagine? Adesso provo anch'io a mettere, ma guardate, è molto facile, ci sono le feritoie per le orecchie, eccolo qua, questo è uno, questo è l'altro, come vedete si mette da soli, eccolo qua, yeh, guardatemi, questa effettivamente mi spinge a tenere la bocca chiusa, eh sì, mi spinge, guardate un po', mi spinge a respirare dal naso perché automaticamente mi chiude la respirazione dalla bocca, in modo molto gentile, non è una cosa strana, inquietante, guardate un po', è comoda, sembra strana, sembro un uovo di Pasqua, ma è molto comoda, vedete, parlo normalmente, è quasi divertente, c'è la feritoia per le orecchie, in questo modo riducete, guardate un po', riducete in pratica il russare, yeh, e si toglie in un secondo, avete visto?